Anche l'arte fa la sua parte Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te Oggi un video davvero speciale Vi faccio vedere un po' di cosine d'arte Un po' di materiali per disegnare, per dipingere Green Finalmente anche le aziende produttrici di prodotti per belle arti Si stanno convertendo all'ecologico, alla salvaguardia del pianeta E allora ecco che arrivano carte 100% naturali Provenienti da foreste protette Piuttosto che packaging 100% riciclati Insomma, vediamo insieme cosa ci regala di nuovo il meraviglioso mondo dell'arte Cominciamo subito con un'azienda con la quale collaboro da tantissimo tempo E che da sempre accompagna la mia creatività La Stabilo La Stabilo è uscita sul mercato con tantissimi prodotti molto molto interessanti La cosa principale è che oramai quasi tutti i prodotti in legno sono certificati dal marchio FSC Che è il marchio che garantisce che il legno usato proviene da foreste gestite eticamente in maniera corretta E quindi già questa è una garanzia perché molto spesso noi non pensiamo da dove proviene il legno E come viene selezionato il legno per le nostre matite Ma anche il legno per le nostre matite Pensate quante matite sia ad uso scolastico che meramente ubistico ci sono O lavorativo come nel nostro caso ci sono in giro Da dove proviene il legno? Il legno come è selezionato? Quindi è bene che le foreste siano gestite correttamente sotto il profilo sociale Sotto il profilo ambientale e soprattutto sotto il profilo economico Che non per i portafogli vengano disboscati in maniera immorale parti del nostro pianeta La prima cosa che voglio farvi vedere sono delle semplicissime matite Dico semplicissime sminuendo molto il prodotto perché sono delle bellissime matite Ma la cosa interessantissima per quanto ci riguarda Oltre ad avere il gommino sul retro Hanno anche la mina grafite purissima antirottura Quindi qualora ci dovesse cadere la nostra matita per terra Non si frantumerebbe in più punti ma rimarrebbe ben solida Quindi questa è una cosina molto molto interessante Altro prodotto molto interessante che voglio farvi attenzionare È un prodotto che per noi che disegniamo sappiamo essere un prodotto per belle arti Ma che viene usato dalla stragrande maggioranza degli studenti così selvaggiamente Al momento di preparare le materie per gli esami E sono gli evidenziatori I famosissimi evidenziatori stabilo Da oggi hanno un nuovo vestitino come potete vedere Con l'83% di plastica riciclata Mentre la base è 100% plastica riciclata Arrivano in questa comodissima confezione Guardate che colori Non viene subito voglia di prendere e disegnarci Io sì sto veramente temporeggiando Giusto il tempo di fare questo video Perché poi li voglio usare naturalmente insieme a voi 8 colori Uno più bello dell'altro Per declinare tutte le tonalità della vostra fantasia La solita qualità degli evidenziatori stabilo Si chiamano i green boss E sono fantastici Tra l'altro hanno la fantastica tecnologia anti dry out Cosa significa? Che quando vi stoppate non vi lasciano il segnetto più scuro E quindi potete fare anche una coloritura continuativa Senza che vengano lasciati quegli odiatissimi trattini Fantastici Li proveremo molto molto presto Tra l'altro l'impugnatura è molto antiscivolo Molto più confortevole dei classici stabilo Mi piacciono moltissimo Lascio per la fine quello che per me è i pezzi forti Arrivano le nuove point ball della stabilo Queste sono a zero emissioni E già è fantastico Quindi una penna che sia senza emissioni di CO2 Quindi hanno emissioni compensate al 100% E un packaging anche questo in plastica riciclata Molto 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 interessanti Poi passiamo all'amore della mia vita Le point 88 Per cui è tanto tanto famosa la stabilo Ed è uscita questa bellissima confezione Con 20 penne Che sono le classiche stabilo però con i colori fluo I colori Veramente della primavera direi Oltre ai classici Nero, blu, rosso Ma guardate poi tutta l'altra gamma colori Che bella Ma la cosa fantastica È il borsellino in fibra di carta Super resistente La nuova confezione quindi non è più in plastica Ma è appunto Chi volesse fare una scelta più sostenibile In carta E guardate che carino Tra l'altro è una fibra bellissima Molto bella da avere tra le mani Confortevole anche questa Ed è in carta 100% Anche lei Sua La sua bella zip Si chiude Se si vuole Si mette il gancetto E lo tenete Sempre con voi Guardate che bello E poi Ragazzi Ci sono loro I green colors Arti Allora Le nuove matite Della Stabilo Con certificato FSC Quindi Matite etiche Direi 24 Questa è la confezione Da 24 Guardate che belle Queste non sono acquerellabili Ma sono delle bellissime matite colorate Ora Oltre a noi artisti A chi le consiglio A tutti quei genitori che hanno figli Che fanno un uso smodato di matite Per la scuola Soprattutto per la scuola Comprate queste Che hanno un impatto etico E naturalistico Sul nostro pianeta Sicuramente Meno Meno Invasivo Delle matite Che non vengono da foreste controllate Quindi La nostra scelta Può essere più sostenibile Quando facciamo arte Anche con questi piccolissimi accorgimenti Non vedo l'ora di provarle Insieme a voi E infine Pensiamo Anche ai più piccoli Anche per i più piccoli La Stabilo Ha pensato Con i grandi matitoni V di 3 in 1 Anche questi Hanno il logo FSC Qui è il P FSC Che è il logo Proprio italiano E anche questi Sono quindi Una scelta Consapevole Per fare divertire I nostri bambini Tra l'altro Ho dimenticato Di dire Che Le confezioni Per esempio Questa lo è E anche Anche questa Anche le confezioni Vedete Sono più dell'80% In carta riciclata Anche questa O più dell'80% In carta riciclata Andiamo a cercare Il loghino Su tutte le nostre Confezioni Sì Tutte le confezioni Cartacee Sì infatti Tutte le confezioni Cartacee Sono in Carta riciclata Quindi un prodotto Un prodotto Eco A tutto Tondo Di carta Stiamo parlando E continuiamo Però con un'altra Azienda Io non parlo Spesso di questa Carta Però oggi Ne va dato Il merito Non che non ne parli Spesso perché Non mi piace Non ne parlo spesso Perché avendo Milioni di blocchi Della Fabriano Meno mi Scorre tra le mani La carta Anemiule Che è un'altra Delle mie carte Preferite Ora è uscita La Naturline Che come dice Il nome stesso È una carta Naturale Infatti è fatta Vi dico proprio Testualmente 100% Vegana Acid free Vi stavo dicendo Ha un sacco Di certificati L'FSC Il certificato Fibre Naturali Il certificato Di Confezioni Imballi E anche Tutto quello Che è Conforme Conforme al Packaging Riciclato È il certificato Di produzione Con Energia Rinnovabile Quindi con Energia Eolica Elettricità Rinnovabile Al 100% Addirittura Adesso però Voglio darvi Qualche Indizio in più Sulla carta Perché Ce l'ho qui Questa carta È 70% Fibra di agave E 30% Fibra di cotone E poi C'è anche Questa Che è 90% Fibra Di bambù E 10% Cotone Quella In fibra Di bambù Ha un blocchetto Piccolo Ed è Veramente Una bellissima Bellissima Carta Con una Grammatura 265 Quindi Bella Sostenuta E quella In fibra D'agave Ha una Grammatura Ancora più Sostenuta Perché 290 Grammi E Anche Questa Una Bellissima Guardate Una Bellissima Grana Molto Molto Bello Blocco Molto Elegante Per Acquerelli Eleganti Sia l'una Che l'altra Questa Una grana Più martellata Rispetto All'altra Tutti e due Molto Belli Quindi Da oggi Anche i vostri Blocchi Potranno Essere 100% Sostenibili E Naturalmente Nel prediligere Altre carte Io prediligo Carte italiane Come la Fabriano Ma Tutte le carte Fabriano Come potete Vedere Hanno le stesse Certificazioni Anche le Fabriano Sono FSC Quindi Sì E' vero Che i tedeschi Sono avanti Ma gli italiani Sono avanti Pure Nel senso Che Non tutte Le aziende Cartiere E non tutte Le aziende Di belle arti Fanno attenzione A questa cosa Ma le aziende Che vi consiglia Ombretta Naturalmente Sì Perché se no Sarebbe inutile Parlare di riciclo Su questo canale No E allora Una coerenza Di fondo Anche nella nostra Attività artistica Bene Questa è l'arte Che ci piace Spessissimo Vi ho parlato Di riciclo Spessissimo Vi ho parlato Di riuso Spesso Vi ho fatto anche Dei video Sull'arte Impatto zero Vi ho proprio Suggerito Come non Inquinare Facendo arte In un video Che vi allego Qui giù In infobox Ora Ci sono anche Gli strumenti Per far sì Che tutto Il nostro sforzo Possa andare A buon fine Perché creare Cose belle Non debba significare Imbruttire Il nostro pianeta Disclaimer Queste aziende Non mi hanno Pagato Per parlare Per parlare Di loro È un servizio Che faccio All'ambiente Perché mi piace Questo concept I video Naturalmente Arte per te È una realtà Grossa Quindi ogni tanto Mi va di fare Degli apprezzamenti E dei regali Ad aziende Che secondo me Meritano Un premio Per il loro Impegno Nella produzione Nell'originalità Dei prodotti In questo caso Nell'impegno Verso il pianeta È giusto Che ciascuno Di noi Faccia La sua parte E quello Che posso fare Io È farvi Conoscere Ciò Che non fa male Al pianeta Bene Se questo video Vi è piaciuto Pollice in su Condivisione Perché questa Condivisione È una condivisione Importante Per mandare Un messaggio Anche di Utilità A chi Ascolta Questo video Naturalmente Non è una corsa Gli acquisti Ora non è che tutti Dovete uscire A cercare Queste cose Che naturalmente Potete trovare Stabilo Molto più facilmente Che a nemule Ma su internet Trovate tutto Vi metto il link Qui sotto Ma Quando andrete A rimpinguare I vostri corredi Pensate Che c'è L'alternativa Ecologica Ad aspettarvi Quindi Non ricomprate Magari Materie inquinanti Ma Variate Evidenziatore 200.000 In commercio Devo preparare Il prossimo esame Ne prendo uno Che sia Amico Della natura Sono piccoli gesti Da cui Bisogna partire Bene Da Ombretta E da Arte Per te È tutto Ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao